Ciao a tutti! Io sono Marco Benato, percussionista classico e moderno. Vi aspetto alla nuova scuola di musica di Mantua per conoscere insieme il corso e il mondo fantastico delle percussioni tecniche. Il corso sarà prevalentemente basato su esperienze, anni di diverse esperienze didattiche e soprattutto di esperienze dal vivo in diverse formazioni. Analizzeremo le principali tecniche, le principali nozioni che riguardano il mondo delle percussioni, oltre a una base pratica e teorica sulla costruzione e soprattutto del senso del ritmo e anche della riproduzione dei ritmi. Pronota ora la tua lezione di prova, io sono qua. Ciao e buona musica! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS